Questa settimana su Obiettivo Lavoro News la disoccupazione con requisiti ridotti. Il prossimo 31 marzo è il termine perentorio per la presentazione all'Inps delle domande di indennità per la disoccupazione agricola con requisiti ridotti e per il trattamento speciale. Stesso termine anche per le indennità con requisiti ridotti del settore non agricolo. La disoccupazione con requisiti ridotti è una prestazione al sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui, non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere le indennità a disoccupazione con requisiti normali. Hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti coloro che non hanno solare di riferimento e prestato attività di lavoro dipendente per un periodo limitato di tempo. Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata alla sede Inps più vicina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quelli in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione. La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo, accompagnata da tanti moduli quanti sono stati i rapporti di lavoro dipendente nell'anno solare di riferimento, corredata al modulo per le detrazioni e fine dell'IRPEF, compilato e firmato dall'interessato. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è per al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore la differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto e quelle delle giornate di lavoro prestate. Per giornate effettivamente lavorata si intende il giorno di calendario in cui si è svolta l'attività lavorativa subordinata, indipendentemente dalla durata e dalla retribuzione percepita. E sotto la lente questa settimana il Master dei talenti neolaureati. È stata da poco pubblicata l'ottavo bando dei talenti neolaureati della Fondazione CRT. L'iniziativa offre la possibilità di effettuare un periodo di tirocini all'estero e retribuito. Le 79 borse di tirocini offerte variano dai 1.400 ai 3.500 euro lordi mensili. La durata dei tirocini è compresa fra i 6 e 12 mesi. Le destinazioni sono i 5 continenti. Per partecipare al bando bisogna avere un'età massima di 24 anni per laureati del nuovo ordinamento in possesso di laurea di primo livello, 27 anni per laureati del nuovo ordinamento in possesso di laurea specialistica magistrale, laureati del nuovo ordinamento in possesso di laurea ciclo unico e laureati del vecchio ordinamento. Inoltre la laurea deve essere stata conseguita presso uno dei seguenti Atenei. Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte e Orientale, Politecnico di Torino, Università della Valle d'Aosso, Università di Scienze Gastronomiche e Accademie di Belle Arti. Le domande di partecipazione vanno presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2011 a Fondazione CRT, progetto Master dei talenti non laureati via 20 settembre 31 10 121 Torino. Ricordiamo i lettori di Obiettivo Lavoro News che potranno trovare copie della rivista presso l'Agenzia regionale del lavoro, ai centri per l'impiego di Aosta, Morge e Verres, all'Ufficio e relazioni con il pubblico a Palazzo regionale presso le biblioteche del territorio. Inoltre è possibile ricevere la rivista in posta elettronica iscrivendosi alla newsletter a partire dal sito www.regione.vda.it alla voce lavoro.